buongiorno a tutti allora ormai mi sarò ribattezzata come la la donna dalla felpa rossa l'ho appena messa perché ho appena fatto la doccia quindi è pulita io ve lo giuro la lavo in continuazione ma il bello lo sapete qual è che ce n'è ce n'erano altre di queste felpe della decathlon non le trovo più sono salita anche in soffitta boh non lo so secondo me se le prese mio marito boh chissà che fine gli ha fatto fare allora video dei prodotti terminati beauty del momento dico beauty ma non credo che ci sia qualcosa di beauty anche perché non mi sto truccando anche cioè mi sembra non voglio sporcare la mascherina non lo so mi sembra anche perché uso le pf2 quindi non è che dopo la butto non è la chirurgica non mi piace sprecarlo comunque allora alcuni prodotti sono direttamente recensiti dalle gemelle che ormai mi mettono da parte prodotti terminati se non avessero lasciato uno shampoo con dentro c'era rimasto giusto un cin cin in di shampoo e dopo devo pulire tutto il cassetto vabbè fa niente andiamo avanti allora hanno terminato ma ne avevo già parlato perché questi sono prodotti che io ho già comprato e infatti qua ce n'è ancora di di prodotto anche se no questo è vuoto si sente allora dell'anti dell'herbe el erba essence quella latte di cocca e quella la fragola e menta dolce la menta non si sa dove sia credo che navi questi 250 ml ce ne avranno messa una fogliolina proprio con una fogliolina a un pro questa la fragola un profumo che è eccezionale e hanno finito anche questo l'ho provato anche io anche quello l'ho provato anche io però avendo la dermatite avendo trovato uno shampoo che per il momento mi sta aiutando realmente squadra che vince non si cambia il balsamo all'argan sempre della dell'herba s poi se ricordate nelle puntate precedenti previously mia sorella aveva regalato dei prodotti alle bambine ora quando si andava ad aprire questo prodotto c'era una specie di hai presente le linguette che ricoprono la plastica che ti fanno vedere a che punto sta il prodotto bene loro l'hanno tolto tutto quindi è molto probabile che o si siano lavate i capelli con un bagno doccia o si siano lavate il corpo con un con uno shampoo in entrambi i casi insomma è tutto bio questo qui della dem quindi non mi ricordo credo fosse un bagno doccia comunque anche perché gli shampoo li hanno finiti quindi poi ah c'è stata una diatriba l'ha fatto lei no l'ha fatto lei no l'ha fatto lei no l'ha fatto lei doveva hanno fatto a scarica barile per non so quanto papaya della balea questo l'ha appena terminato io li adoro queste schiume perché ti fai la doccia veramente in cinque minuti cioè io ci metto cinque minuti a farmi la doccia veramente questa è la papaya mi piace è molto estivo però ne ho un altro alla papaya perché mia sorella ha trovato solo quello però ce ne ci sono delle profumazioni molto molto più interessanti altro balsamo finito sempre dalle gemelle io stranamente sto mettendo pochissimo il balsamo perché ho paura ripeto ho trovato questo shampoo è quello della della fructis antiforfora che vi sarà che vi ho fatto vedere tra i preferiti che mi piace tantissimo mi ha tolto la dermatite ora non so se sia il periodo ma fa freddo non fa caldo quindi di solito dermatite va via col caldo non col freddo comunque hanno finito anche questo idralis della fructis con micro olio di albicocca capelli difficili da lisciare tendenti al crispo io immagino soltanto la bolletta dell'acqua quella della luce perché le mie figlie fanno delle docce che sono non sono docce sono chilometriche cioè non lo so santa maria loro adorano l'acqua allora poi è finito spuma di champagne ve ne ho parlato benissimo mi sono sempre piaciuti ne sto finendo di utilizzare un altro infatti questo qui oggi non è bastato e quindi ho completato con l'altro spuma di champagne questo è lo sedificante perle di seta e vaniglia voi sapete che basta che mi mettete a vaniglia io lo compro eletto prodotto dell'anno 2020 forse che ci fosse una cosa buona dice quelli della spuma di champagne forse che ci è andata buona una cosa poi di questo ve ne avevo parlato e l'avevo messo tra i prodotti preferiti perché veramente mi è piaciuto molto come deodorante nonostante il senologo non voglia che si cambi spesso deodorante non mi chiedete perché le indicazioni sono quelle noce retta no cambio spesso di deodorante comunque per le imbiuti della nivea con questa apertura fichissima che si gira ci è piaciuto assai ci è piaciuto assai poi questo allora questo a me è piaciuto tantissimo so anche quanto costa e costa veramente un'inezia la mousse doccia della dub costa un po in più queste con olio di cotone idratante morbidezza 24 ore nutrimento profondo ma ragazzi non c'è paragone nel senso che sono schiume tutte e due solo che come se la dav e l'avevo già detto perché anche questo era tra i prodotti preferiti si come si dice si aderisse meglio al corpo quindi ne usi di meno e ti insaponi sei in questa nuvola bianca ed è molto stetificante a me è piaciuto tantissimo e si può usare se non mi sbaglio allora senza solfati doppia durata è vero vabbè agitare si può utilizzare anche per il rasoio per radersi poi finalmente finalmente è finito mia sorella mi aveva avvertito solo che lei non ne aveva comprato uno ne aveva comprati tre e uno l'ha data a me e ho fatto anche la rima è il prima leggevo al contrario adesso non ci leggo proprio più cioè se io non mi vado a fare io è un anno che sbanevo con questi occhiali sbanevo voce del verbo sbagliare cioè lamentarsi senza risolvere niente ecco pur clean powder è un esfoliante e come potete vedere qui ci sono tre pallini e al numero uno io gli avrei dato zero nel senso che non esfolia manca una cippa lippa infatti io lo mischiavo sempre con un altro esfoliante ora io non arrivo a trovare un esfoliante che sia come si deve e quindi mi sa che farò zucchero e miele e la la butto via lì ecco poi avevo ricomprato l'elviv questo shampoo mi è piaciuto moltissimo per diversi mesi dopo un po non mi ha fatto più niente per la dermatite non c'è stato verso quindi alla fine l'ho finito l'ha finito anche mio marito l'ha usato anche mio marito ma c'è stato niente da fare poi per le bambine sempre al dem io avevo comprato questo senza sali d'alluminio che è un deodorante molto profumato purtroppo anche il fatto che non avesse sali d'alluminio gli ha portato stella ad avere un'irritazione all'ascella cioè ma già mettono il deodorante e purtroppo da un po di mesi tre o quattro mesi devono mettere anche loro il dio un po di deodorante stanno crescendo poi ecco questi sono tre prodotti della serie come buttare i soldi senza averne vabbè questo non mi è piaciuto proprio e poi questo l'anno secondo me l'hanno finito le gemelle perché io non l'ho finito mia sorella sempre della balea perché noi ormai dem cioè come se fosse casa ecco mi aveva preso per i talloni questa spuma che si metteva e che doveva aiutare nella morbidezza dei piedi no mia sorella dice che sbaglio io perché non la metto con costanza no la metto ogni volta che vado a fare la doccia non funziona gaia fattene ragione non funziona non ha funzionato poi questa va via per scadenza ed è la maschera all'argilla della l'oreal che a me è piaciuta molto ma che non la posso neanche aprire perché cadono pezzi che ho usato diverse volte perché non non è che è piena però non è aperta da troppo tempo a una scadenza di 12 mesi ma è stata più di 12 mesi con me quindi e alla fine perché noi andiamo proprio sul costoso perché quando il dermatologo di dà il prodotto specifico due che fai ti fiondi a comprarlo la dermatologa mi ha dato dell'auri agio questa ds lotion no si era al dermatologo è però l'altra dermatologa che si spruzzava sui capelli come potete vedere io l'ho utilizzato l'ho utilizzato pertanto e acqua fresca cioè come se io avessi aperto la bottiglietta ci avessi messo l'acqua allora qui è tutto in francese e qui è tutto in assicurese che cosa dice lozione lenitiva regolatore no non mi ha regolato niente e soprattutto non mi ha allenito niente quindi bene questo è quanto non mi sembra poco perché insomma sto facendo un po di repulisti ma mi spiace per i cosmetici perché veramente non mi sto non mi sto truccando perché nella mia concezione non riesco a pensare a truccare solo gli occhi senza mettere il fondotinta per esempio o è la cipria quindi non mi sto non mi sto proprio truccando cioè dovrei andare dall'estetista dovrei andare dal parrucchiere ad aggiustare il taglio ragazze io ho paura poi non lo so c'è chi trova il coraggio c'è chi ci sono dei posti dove sono i personi e sanificati dove ti sanificano dal da quando entri a quanto esci ci sono due solo due persone per volta io andato metto a posto perché ho la sindrome di marta questa questa non è una battuta una citazione biblica non so se qualcuno la capirà se mi penso proprio di sì voglio dire e oggi si butta la plastica e quindi non non me la sento per il momento anche perché ho appena letto che siamo in stato di emergenza almeno fino al 30 aprile perché la curva sta risalendo quindi questo è quanto per quanto riguarda i prodotti più per quelli questi cadranno tutti dalle scale sperando che le mie figlie abbiano i microfoni spenti io vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao